Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, coadiuvati dal personale della SIAE, hanno eseguito controlli amministrativi in diversi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento nel lungomare di Gela e a Macchitella. In tre occasioni i poliziotti della squadra amministrativa hanno riscontrato irregolarità sanzionando i titolari. Tutti i titolari degli esercizi commerciali sono stati inoltre invitati a rispettare l'ordinanza comunale del divieto di somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro e di divieto di vendita di superalcolici. In una nota il questore Emanuele Ricifari fa sapere, chiediamo ai gestori dei locali di garantire come dovuto il rispetto delle normative di settore dettate per la sicurezza di tutti e agli utenti di comportarsi responsabilmente. Il divertimento non deve scadere in reati e peggio infatti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone. Proseguiremo nei controlli e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.